Invece di prendere per i fondelli i cittadini, non voglio esprimermi in malo modo perché sarei maleducato, dovrebbero intervenire Stato, compagnie o chi di competenza e cercare di riportare la benzina a dei valori consoni in modo che la gente possa perlomeno vivere un po' meglio. Benzina, energia elettrica, metano, questo e quell'altro, io penso che sia difficile poi dopo vivere in un mondo così. Stato e aziende petrolifere, solo loro possono intervenire secondo i benzinai ma è un pensiero piuttosto comune per abbassare il prezzo del carburante che ormai è arrivato ad avere dei costi davvero insostenibili. Se tu lo domandi per la strada a un cane e dovesse parlare, quello lo sa, lo sa perché ormai lo sappiamo tutti. Ora che i benzinai non prendono niente da una vita e hanno un margine risicato, questo lo sappiamo tutti, quindi nella componente prezzo i benzinai non c'entrano assolutamente niente perché con 35 euro al chilolitro, quindi ogni mille litri, che mediamente con questi prezzi sono 2.000 euro nel self d'incasso, prendiamo 35 euro, noi non possiamo risolvere questo problema qua dei carburanti. Possiamo risolvere magari come sempre se ci chiamano perché c'è le gomme sgonfie, diamo servizi agli utenti, se quello rimane a piedi andiamo a prenderlo, risolvere questi problemi qui da una vita sì, ma mal riconosciuti. Lei diceva che il carburante ormai è diventato un po' come il pane quotidiano, di questo chi ci governa ne dovrebbe tenere conto. Appunto, il prezzo medio, la più grossa bufala è presa in giro ai cittadini che ci possa essere, è un fumo negli occhi logico, cioè tu metti il prezzo medio, la gente diceva che il prezzo medio la benzina cala, sì, coppifero, dall'agosto a ora ha fatto 15 centesimi i carburanti e il prezzo medio è chi lo cambia questo prezzo. Se noi dobbiamo prendere la merce e non decidiamo il prezzo, ci viene imposto, chi lo cambia? Compagnie e Stato. Lo Stato con le accise, ormai lo sappiamo, altissime, coliva al 22%, quindi il pane e gli alimentari al 4%, la benzina al 22%. In questo status quo di situazione la benzina è come il pane perché la usano per andare a lavorare moltissima gente, quindi che succede? Anche lì bisognerebbe, dato che le accise non le vogliono togliere, perché lì bisognerebbe rivedere anche questo discorso di vaggio sulla benzina, che porterebbe la benzina a scendere abbastanza perché a questi prezzi qui non è sostenibile. Non è da noi che si vende, che dobbiamo esporci con un capitale per acquistare e poi il margine è veramente roba da fame, assolutamente, che le gestioni non stanno più in piedi, infatti vedranno in giro tutti quanto ne chiude e quanto lasciano gli impianti.